Grazie, grazie Presidente. Io credo che siamo di fronte al sistema delle ridondanze, vale a dire riproporre in documenti, ordine del giorno, emendamenti, cose che fanno già parte o argomenti che sono già oggetto di quello che stiamo per votare in termini di delibera, ma comunque sono oggetto dell'azione politica e amministrativa che questa amministrazione sta portando avanti sin dall'inizio. E' abbastanza paradossale che si chieda, a partire dalle considerazioni, un risame di tutti i piani di zona per supportare la commissione che stiamo per istituire, quando questo è l'oggetto, è come ricordare a noi stessi come ci chiamiamo, e impegnare risorse umane ed economiche sul Dipartimento di Programmazione Urbanistica, questa è una volontà di questa amministrazione, rendere tutti gli uffici sempre più efficienti, per cui fa parte anche nel piano di assunzioni, nello sblocco delle assunzioni del concorso e così via. Credo che sia altresì un'opzione da non poter prendere in considerazione, perché, ripeto, fa parte di quelli che sono gli obiettivi di questa amministrazione. Di conseguenza, anche su questo ordine del giorno, ci sentiamo di votare non favorevolmente. Grazie.